Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci il codice XU... no, 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 ok, forse no, forse forse no Così siamo un pochino esagerando, magari l'intro la facciamo questa ma il codice mettiamo, Lucius, grazie mille e arrivederci XUder LOL, urgami lurga a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzoni, oggi sono qui perché come avete letto dal titolo ma soprattutto visto dalla migliatura e come avete visto anche dall'intro Ragazzoni, oggi andremo a imitare gli youtuber, un nuovo format che ormai ha due settimane che mi frulla in testa E quindi oggi ho deciso finalmente di portarvelo, anche perché a me l'avete detto voi su Instagram nelle stories Sconsigliandomi appunto di portare questo format dove andavo ad imitare gli youtuber ragazzoni Il primo che mi è venuto in mente e che in realtà mi avete detto anche voi è stato appunto XUder ragazzoni Perché fa smattare, insomma lo sappiamo tutti com'è E quindi raga ho deciso di imitare esattamente lui questo video Questa serie che spero di portare avanti non l'ha in teoria ancora portata a nessuno di youtuber grosso Diciamo perché quando sto registrando questo video in teoria non dovrei averla portata a nessuno Perché ho controllato qualche minuto fa se non canali piccolissimi tipo 50 iscritti eccetera eccetera Ma comunque ragazzoni oggi siamo qui con il nostro carissimo John C. Bunker Per andare in giocatore singolo e andare a imitare il nostro carissimo XUderone nazionale ragazzoni Oh raga vi voglio portare una bella top 10, raga voglio portarvi una top 10 a casa Con questo bellissimo Battle Boost versione World Cup Wow raga guardate la sfera Proth Proth raga guardate la sfera quanto è lì che si sta per schiudere raga LOL raga guardate la LOL Ok ok stavo dicendo vi voglio portare a casa una top 10 e c'è uno Via 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 raga non ci ha visto non ci ha visto non ci ha visto Non ci ha visto cioè in realtà ci ha visto dalla live Ma comunque meglio 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 L'importante è che non ci abbia visto e non ci insegua vai Andiamo a prenderlo che voglio una top 10 voglio una top 10 e ve la porto raga Ve la porto a casa però dobbiamo essere almeno 12.000 quanti iscritti siamo Possiamo 12.000 per ora quindi no raga è per questa top 10 che l'oxudere vuole portarvi a casa Almeno almeno 12.100 dai dai raga 12.100 iscritti per questa top 10 Bell'oxudere siamo già rimasti in 52 tra l'altro Proth Andiamo ad ammazzare questi snappi maledetti così imparano una volta per tutte A stream snapperare il sommo xuder Proviamoci proviamoci ecco magari no cadere No che rimango incassato come quella volta con le piante Ok eccolo Vai Ok Ok facciamoci le be' dozze raga Facciamoci le be' dozze Ma guarda questo Guarda che tappo di merda Brutto pezzo lì Ma come c***o potevo fare Porco di azz Stappi bassardi 3G va bene raga va bene va bene va bene va bene va bene fa niente fa niente raga Non è successo niente raga fa niente va bene va bene va bene Non è successo niente raga non è successo niente non è successo niente Andiamo ancora in singolo Eccoci qui sul battle boost raga ci buttiamo dove andiamo dove andiamo Andiamo in un posto dove non ci sono snappi Cioè cerchiamo di andare in un posto dove Magari gli snappi Purtroppo non ho attivato il filtro Anti snappo e quindi E' un po' difficile che ora non ci siano snappi Ecco lì probabilmente ce n'è già uno E andiamo un pochino più in là Così almeno Non ci Vengono a stream sniperare Dai che andiamo raga Questa qui me la sento portiamo a casa Una bella top 10 raga Top 10 me la porto sicura raga Top 10 devo assolutissimamente Portarvela a casa Dovemmo cercare una bella palletta ragazzi Di quelle gagliardissime perché Altrimenti sarebbe impossibile Portarsi a casa la partita perché Lo sappiamo tutti lo Xudorone nazionale E' ormai un pro con le pallette Io sono bravo solamente col cecchino Con le altre armi faccio schifo E con le pallette raga Non ci scampa nessuno Sono il più bravo solo col cecchino E con le pallette raga Quindi direi che assolutissimamente Ci può stare di trovare Una palletta per noi Ok ragazzi Prendiamo questo guys Andiamo qui dove c'è lo spot Delle pallette Cos'è meno da prendere Il coso Ok raga Ce n'è uno Attenzione Attenzione ragazzi Ce n'è uno Attenzione perché Proprio dove stavo andando io Quindi potrebbe essere Uno snappo Attenzione ragazzoni Questi snappi Lì c'è una palletta raga Vediamo se riusciamo a fightarlo Ok un attimo raga Andiamocele via Andiamocele via che non ci ha visto Andiamocele via che non ci ha visto Vai Palletta Ah Succa Ok Via ragazzi Via la palletta Che gli arda Però Prendiamo un pochino Se riusciamo magari a darlo A riprendere Eh raga Attenzione Attenzione raga Senti tutti Vai che andiamo Ok Wow Succa Snappo di merda Succa Dai che andiamo raga Dai che andiamo Riusciamo ad arrivare tranquillamente In top Dieci Raga Io ve l'ho promesso È una top dieci È una top dieci Ragazzoni Intanto vi ricordo Che se non siete ancora iscritti al channel Iscrivetevi E attivate la campanellina E io ringrazio tutti quelli Che vi supportano Come creatore Con il codice Lucius Ok raga Ce n'è uno No basta Perché tutti questi snappi Devono rompere le balle Ma non possono andare a ciucciare il latte Da qualche altra parte Ok Fucile dal salto Eh Fermati Ok Vai che andiamo raga Vai che andiamo Vai che andiamo Vai che andiamo Vai che andiamo Ok raga C'è uno snappo maledetto Qui con la nostra palletta Ok vediamo Snappo maledetto Snappo Guarda come si è scinta Sto snappo maledetto Ok Ragazzoli Il video finisce qui Scusate se Ho un po' tirato Perché poi lo lancio Il porco di assata fine Ma è quello che fa di solito Scusate quando si cavola Un po' dei funny moment Che ho visto Avrei potuto imitarlo Molto molto Meglio però Dettagli Vabbè ma comunque Io spero che questo video E l'impegno Vi sia piaciuto Se così è stato Lasciato un bel pollicione di su Commentate Ma soprattutto Iscrivetevi Attivate la campanella E soprattutto Scrivetemi qui sotto Nei commenti Il prossimo youtuber Da imitare Ragazzoli Che proverò a informare Un pochino Sul prossimo youtuber Se lo conosco già Mi avvantaggiate Se non lo conosco Lo andrò a conoscere E lo andrò a imitare Quindi ragazzoli Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Chi potrei imitare Come il secondo youtuber E niente Urca meno Urca tutti boys E noi ci possiamo salutare In un prossimo video Dagli Ciao